Salve ragazzuoli, bentornati sul canale! Sono appena tornato dal lavoro e mi sono detto quasi quasi mi metto a registrare, solo che non mi ricordo più che cosa avevamo fatto allora, sì, ero andato ad esplorare quel posto molto interessante e mi ero portato dei diamanti se non mi ricordo male, infatti i diamanti ci sono ancora a questo punto io penso che ci convenga esplorare un attimino un po' intorno qui e iniziare a decidere cosa fare, intanto tolgo un po' di questa robetta perché vorrei fare una piccolissima coltivazione di grano visto che qualche muccarella mi servirà sicuramente, quindi mi prendo un po' di semetti e ci facciamo una cosa microscopica, quelle coltivazioni infani ok, ho preso 22 semetti, adesso mi servirà anche una zappa perché non ce l'ho quindi devo decidere dove farmi questa piccola coltivazione ovviamente è tutto molto momentaneo io come zappa userò la pietra, non è che mi faccio la zappetta di ferro voglio dire, il ferro ce lo conserviamo allora, io potrei farmi una sottospecie di coltivazione penso su questo isolotto, perché no? me la faccio qua, che vedo pure già delle mucche che potrei anche lasciare qui liberi e felici che ne so, penso di sì allora, potrei fare una cosa del genere, proprio qua molto molto shallow, ola così, tanto per avercele in modo che iniziamo pure a preoccuparci di un po' di farming, di bestioline che in questo caso sono le mucche, perché le mucche ragazzuoli servono servono sempre per la carne, per la pelle più per la pelle che per la carne ma comunque, allora questo l'abbiamo fatto ora, una cosa che io vorrei iniziare a pensare è dove farmi la base perché questa parte mi piace molto non voglio fare una cosa enorme per iniziare poi magari, andando avanti con le puntate potremmo pure pensare di fare qualcosa più mastodontico ah, intanto vi ringrazio per i commenti perché me li sono letti io registro, cioè quando posso registro più episodi contemporaneamente, quindi questo dovrebbe essere il terzo, il quarto e adesso ho letto i commenti del primo episodio quindi grazie, grazie per i commenti di bentornato, è stato bellissimo ho risposto a tutti, almeno spero di non essermi saltato nessuno e quindi sono molto molto contento che appreziate il mio ritorno fondamentalmente non posso dire che vi piace la serie perché ora è iniziata quindi che cavolo potete mai dire della serie è iniziata adesso, non è che ci possiamo esprimere così a casaccio ma sapete che per assurdo mi piacerebbe fare un magazzino lì a me lo so che è una cosa proprio fuori dagli schemi cioè solitamente io non faccio mai sta roba però, non lo so, mi ispirerebbe avere un magazzino laggiù in fondo ma perché no? io direi che ci possiamo provare allora, intanto smangiucchio perché altrimenti non ci arriviamo ma c'è solamente questo di cibo avrò delle altre cose qui dentro da mangiare? sì, ecco, mi pareva strano allora, vediamo un attimino come fare quindi andiamo a progettare questa sorta di magazzino all'aperto un open space le torce ce l'ho quindi usiamo per il momento questa pozzettina d'acqua per buttarci giù e andiamo a farci una bozza di magazzino dovrò rendere questo percorso un attimino più semplice perché così è un po' un casino allora, c'era una bozza? sì, mi butto così, perfetto dall'alto avevo visto una zona che mi piaceva parecchio vediamo se ci riesco ad arrivare senza morire che era più o meno questa zona qua sì, questa, esatto questa parte qua mi piace per farci un magazzino proprio dentro questo muro secondo me potrebbe essere una cosa molto carina ovviamente dobbiamo un attimo illuminare altrimenti qua ci moriamo male picconi di ferro ne ho due allora, io inizierei a rompere un po' di pietre così giusto per fargli dare un aspetto iniziale perché mi piace sta cosa che sta nel muro da lontano faceva una specie di cerchio vediamo se è vero oppure se ho avuto un'allucinazione eh, oddio, più o meno vabbè, si può sempre aggiustare non è che deve essere perfetto dall'inizio lo customizziamo quindi vediamo un po' come potremmo mettere allora, mettiamo il caso che io voglio mettere delle ceste qui ovviamente ceste non ne ho me le devo fare vado un attimo a prendere del legno facciamo un po' di ceste perché il magazzino, insomma se lo devi fa' almeno una bozza una parvenza di realtà ce la devi da' altrimenti è un casino ovviamente per avere delle ceste ci serve del legno quindi inizierei a prendermi un po' di legno ok, prendiamoci questo legno carino, questo legno che cos'è? il cherry log mai visto in vita mia una cosa nuova bello, mi piace useremo questo per fare le ceste che poi, in teoria dovrebbe essere uscito un altro snapshot infatti ho aggiornato il mondo alla 24V05A che novità ci sono in questo snapshot? non ne ho la ben che minima idea perché devo ancora attrezzarmi per fare i video sugli snapshot prima li facevo però capite che è un po' complicato adesso perché mi devo studiare le novità quello che esce però, voglio dire prima o poi faremo anche quello con molta calma si fa sempre tutto allora qua intanto sto coso perde i fiorellini non la sapevo mi è nuovo è la prima volta che vedo questo alberello cherry sapling carinissimo io lo ripianterei giusto per non perderci poi sta conformazione carina ecco lo mettiamo qua siamo tutti quanti contenti continuerei a rompere un altro po' di legno rischiando di morire visto che si sta facendo notte e poi andiamo a piazzare un po' di chest ovviamente sono già stato attaccato da mille e mila mob giustamente notte cioè chi è che battaglia la legna di notte se non io perché non sto bene evidentemente è l'unica spiegazione mi sembra anche ovvio allora abbiamo preso un bel po' di legno penso che ce lo possiamo far bastare abbiamo preso pure un po' di sapling che vado piantando qua li pianterò qui a muzzo e torniamo giù ok ci siamo fatti un po' di legno abbiamo anche dormito mi sembra giusto vediamo se riesco a scende senza acqua no però da qua mi potrei buttare dai in teoria sì sì dai ce la possiamo fare tranquillissimamente ok andiamo a vedere un attimino come sistemare queste ceste per abbozzare questo magazzino ho sentito una freccia e infatti ho sentito una freccia non era proprio il caso allora scappiamo un attimino perché io smangiucchio nel mentre ok il nostro amico scheletro rompe le balle tantissimo e ce lo togliamo subito dai cogliones come si dice in gergo tecnico allora come mettiamo queste ceste qua dentro allora non so se è un'idea decente quella che mi è venuta però ho pensato di fare una roba del genere vi faccio vedere io praticamente intanto piazziamo la crafting table da qualche parte tipo qua e iniziamo a farci un po' di ceste giusto poche tanto per averle ecco qua oddio poche diciamo che non è che sono proprio pochine un bel po' di ceste perfetto allora possiamo piazzare intanto delle ceste ok non si fa così aspettate che non mi ricordo più come si piazzano le ceste una volta era facile piazzare le ceste ti mettevi qua facevi così e stavolta non si fanno più così come si mettono le ceste che palle perché mi avete cambiato tutto il sistema di ceste qua vabbè mi devo mettere di lato faccio così e faccio così ok questa è una cesta chiaramente poi io andrei a mettere delle altre ceste in questo modo qua vi faccio vedere tipo così una qua e una qua perfetto la stessa cosa facciamo più su qua ovviamente scavo tutto perché non è che voglio tenere sto muro in mezzo alle balle quindi un'altra ceste messa così qua magari possiamo mettere delle scale per salire tra una cesta e l'altra e la stessa cosa io la farei anche qua proprio in modo speculare quindi andiamo a mettere una ceste qua una ceste qua qui rompiamo tutto ovviamente stesso discorso qui così qua ne mettiamo un'altra così perfetto allora sicuramente è un magazzino anomalo rispetto al solito però non è male ci sta ci potrebbe stare qua facciamo così così e continuiamo certo un bel piccone di diamante con efficiency sarebbe stato meglio però questo ci abbiamo non è che possiamo inventarci miracoli quindi io metterei delle altre ceste qui e delle altre ceste qua allora faccio solamente questo queste due file di ceste per vedere poi magari con dei gradini come viene questo modo qua qua ovviamente abbiamo detto che ci mettiamo dei gradini che li simuliamo si possono fare i gradini con questo si tutto molto in prova ragazzi così una roba del genere non così porca zozza se scale maledette che si girano in continuazione ok potrebbe avere il suo perché questa cosa secondo voi potrebbe avere un suo perché secondo me quindi qua la stessa cosa leviamo tutto quindi metterei altre scale anche qui allora mi sembrava una buona idea però guardarlo bene no forse lo cambio un attimo allora diciamo che così sicuramente è meglio è molto più carino quindi uno qua ha tutto il magazzino sali vai a prendere le cose magari qua mettiamo gli time frame con quello che c'è dentro e facciamo altro pure qui quindi abbiamo detto due gradini in mezzo qua mettiamo altri gradini vediamo come viene secondo me non è male come cosa vediamo da lontano secondo me potrebbe andare bene allora guarda c'è il suo perché come magazzino immaginatelo insomma messo pure su quell'altro lato sì secondo me è una bella zona magazzino alla fine abbiamo un bel po' di di doppie chest volendo possiamo pure fare ancora un'altra fila quindi andiamo ancora più dentro secondo me ci sta ho ancora 5 chest ne posso fare delle altre se volendo sì non tantissime però le posso fare allora ragazzi mi piace questa idea non ho mai fatto un magazzino così e in questa serie voglio fare cose che non ho mai fatto almeno voglio provare a fare anche cose che non ho mai fatto però il magazzino così non è brutto poi là magari si può fare un arco per tutta la lunghezza del magazzino perché non avrà solamente tre file ma ne avrà un bel po' di più insomma e secondo me viene bene solo che ho rotto il piccone ho finito il legno è notte quindi devo andare un attimino a dormire devo recuperare un po' di cose e poi proseguiamo questa costruzione questo esperimento dai mi piace quasi quasi la base me la faccio qua sotto allora mi sono fatto un altro piccone però penso che devo mettere un attimino una pozzetta d'acqua qua perché mi rompo le balle di andare fino all'assù ogni volta e questo tanto me lo riempio subito qui dentro non è un problema di acqua siamo pieni ecco spezziamoci le caviglie come al solito altrimenti non siamo noi allora andiamo a fare l'intelaiatura di quello che sarà il nostro magazzino mi piace questa idea mi è venuta proprio così dal nulla stavo morendo malissimo dal nulla ovviamente quindi ora sfascio un po' non ho tutte le ceste che mi servono però intanto facciamo le posizioni che poi io lo dico sempre il bello di minecraft alla fine è che ti permette di costruire fondamentalmente quello che vuoi cioè non è che hai grossi limiti quando stai su minecraft l'importante è avere fantasia ed è una cosa che è divertente obiettivamente diciamoci la verità minecraft è un gioco eterno perché non ti scocci mai di giocare cioè puoi costruire quello che ti pare puoi fare diversi design poi con tutte queste novità che escono in continuazione diciamo che è un bel gioco un gran bel gioco non a caso su più di dieci anni che sta sul mercato voglio dire un motivo ci sarà quanti giochi abbiamo visto che sono spuntati come mamma mia la rivoluzione dell'anno e poi dopo un mese chi cavolo se ti ricordava invece minecraft sta sempre qua possiamo dire che specialmente voi siete più piccoli ci siete cresciuti cioè siete nati con minecraft e state crescendo con minecraft è una cosa figa cioè non è da sottovalutare questo aspetto perché non capita spesso che un gioco un videogioco sia così longevo quindi secondo me siamo fortunati ad avere minecraft ho fatto un'altra fila per mettere delle scalette e quindi qua mi dovrò fare un'altra fila per mettere altre chest se tanto mi da tanto così dovrebbe essere tanto qua mettiamo sti gradini porca zottina una cosa che io odio profondamente di minecraft sono i gradini i gradini li odio perché come ti muovi muovi sbagli è una propria ormai è una leggenda metropolitana del gradino che si piazza bene non è vero che si piazza bene si piazza sempre storti e nel mentre ho fatto fuori un altro piccone ok sto magazzino è un po' più impegnativo del previsto devo essere sincero ma d'altra parte se vuoi le cose fatte carine è un pochino devi sudare non è che te le regalano comunque nel mentre che scavo ho pensato allora sicuramente i video per iniziare ne faremo uscire due a settimana di questa serie usciranno il lunedì sera alle 8 quindi alle 20 di sera e il giovedì sera alle 20 secondo me è un orario abbastanza buono dei giorni abbastanza furbi perché voglio dire lunedì sera non è che uno se ne esce il giovedì sera idem quindi secondo me è un orario giusto per far uscire questi questi episodi poi qualcuno di voi mi ha chiesto delle live quando è che facciamo le live noi prima facciamo le live per chi mi sta seguendo solamente adesso diciamo che le live eravamo arrivati ad un punto in cui le facciamo tutte le sere fondamentalmente se non ricordo male allora le live torneranno non nell'immediato perché come vi ho detto sto carico di impegni lavorativi quindi non riesco a fare le live cioè proprio muoio se faccio pure le live però ritorneranno magari non ne facciamo tutti i giorni quello è ovvio però secondo me qualche live magari nei fini settimana insomma poi ci organizzeremo non vi prometto niente per il momento per il momento facciamo due video a settimana è tanta roba tanta roba poi con il passare del tempo che mi organizzo meglio metteremo pure qualche altra cosa altre domande che mi avete fatto il server minecraft allora server minecraft parliamone un po' ho in mente di rimetterlo in piedi come vi avevo già detto il server minecraft mi piace proprio l'idea di avere un server mio di gestirlo con i plug-in e tutto il resto non so ancora quando questo non lo so una cosa è certa quando avrò il tempo e deciderò di mettere in piedi il server minecraft avrò bisogno di builder sì quindi sicuramente avrò bisogno di builder da per buildare fondamentalmente perché voglio dire l'ultima volta eravamo in due a fare il server due o tre persone ed è stata un lavoro in mare ma ci vuole troppo tempo e comunque non riesce a fare cose fatte bene come andrebbero fatte quindi stavolta penso che vi chiederò una mano quindi se siete bravi con le costruzioni a buildare poi quando sarà il momento vi metto in mano praticamente i poteri di buildare sul server e builderemo tutto il server che tipo di server faremo non lo so ancora sono sincero è tutto da decidere ma penso che quello lo possiamo decidere insieme alla fine come sapete bene o male le cose le decidavamo sempre insieme più o meno quindi sapete che io sono molto liberale come pensiero non mi piace fare le cose accentrate decidere vita, morte e miracoli insomma se si fa una cosa per stare bene tutti insieme quindi ovvio che decideremo insieme che tipo di server mettere in piedi l'idea mia è sempre quella lo sapete io che lissia craft gdr queste cose qua però è tutto da da studiare allora secondo me viene carino questo magazzino sto pensando se lasciarci due gradini di spazio oppure se metterne solamente uno secondo me metterne uno sarebbe più intelligente perché ottimizziamo gli spazi non è che voglio fare un magazzino dei 20 km cioè deve essere bello grande ma comunque deve essere anche un po' compatto facciamo un attimo una prova vediamo se viene uno schifo come vedete questa serie di minecraft sarà veramente molto tranquilla cioè chiacchieriamo mentre costruisco normalmente quando mai chiacchieravamo mentre io mettevo a costruire le cose lo facevamo in live però nei video era tutto tagliato invece qua voglio cercare di tagliare poco cioè non vi voglio rompere le balle con minuti e minuti di scavaggio però nemmeno voglio fare tutta una serie tagliata secondo me secondo me non è male come idea allora mettiamo un attimo questi qua e porca zozza però ti odio ragazzo io te lo giuro ma veramente tanto ti odio allora rompiamo pure questi intanto un altro piccone ci sta per salutare eh raga purtroppo i picconi di ferro non è che durano all'infinito poi non è manco incantato solo che io non li voglio sprecare i diamanti per farmi un piccone di diamante non incantato non la vedo una cosa proprio furbissima ci avessi un enchanting table ci avessi un po' di livelli allora uno dice vabbè mi faccio un bel piccone ci metto efficiency la cosa cambia però così non ha molto senso allora vediamo un attimino che faccia a questo magazzino se gli metto solo un gradino ovviamente poi questi blocchi sotto li cambio adesso è tutto molto improvvisato sì secondo me è meglio perché lo spazio viene ottimizzato è un po' più compatto si può assadire comodi tanto gli item frame li mettiamo qua si vede tutto sali prendi le cose scendi magari puoi pure salterla così sì secondo me è stata una bella idea bravo bravo a me un altro gradino messo storto ovviamente ecco vedete adesso nello stesso spazio di prima ci esce almeno un'altra fila di chest se non due che è una cosa buona voglio dire ok ma cos'è ah eccola mi pareva strano tutto com'è lì erano erano tutte quante a coppie sì 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 decisamente così mi piace perché poi una volta finito noi possiamo fare una specie di arco che chiude dentro illuminato viene carino viene carino quindi questo sarà il nostro angolo magazzino all'interno di sto posto che sto posto ragazzi voglio dire c'è il suo perché è bello è bello una volta customizzato tutto secondo me qua ci viene una gran roba sì mi piace oddio non è stata la puntata del secolo cioè non è che abbiamo fatto chissà che cosa però intanto abbiamo abbozzato un'idea che non è niente male cioè quella del magazzino io dovrò andare a prendere altra legna altre cose e dovremo un attimino sistemare almeno sommariamente sto magazzino ragazzi stasera mi fermo qua con la puntata spero vi sia piaciuta e ci vediamo nel prossimo episodio buonasera a tutti ciao ragazzi